Allora signore volevo fare un video breve, ok, per fare innamorare un uomo e tenerselo stretto, ma proprio stretto, cioè nel senso ragazzi teniamocelo stretto sto maccione. Allora, ti piace un uomo, vorresti farlo innamorare e non sai come fare, prima di tutto mi devi seguire sul canale, mi devi seguire dappertutto, perché certo no qua come fai insomma ci sto io apposta. Allora, andiamo signori, andiamo al dunque, allora, ci sono delle strategie fondamentali per fare innamorare un uomo follemente, ok, queste strategie forniscono una particolare sequenza che dobbiamo impostare, quindi passiamo con tre passi fondamentali, andiamoci a vedere questi tre passi fondamentali, vediamo che cosa sono, vediamo che cosa puoi fare. Allora, il primo passo è ovviamente l'attrazione, quella no, quella fisica, quella intima, quella che ci porta no a pensare che vogliamo in qualche modo insomma arrivare no, to prowl, quindi arrivare a, insomma, insomma, avete capito, insomma, dovevo usare termini espliciti. Il secondo passo è leggere la Bibbia, il primo passo, il secondo passo è l'implicazione emotiva, ok, che lui proprio si intersega emotivamente con te, il terzo passo è l'impegno, ok, quindi rifacciamo un attimo un escursus. Primo passo è parte fisica, quindi attrazione intima, lettura della Bibbia, secondo passo è l'implicazione emotiva, ok, quindi lui si, no, ha sbalzi emotivi, sbalzi comportamentali, interessante direi tu. Terzo passo è l'impegno, ora, perché? Per mantenere una persona fortemente legata, scusate vi tolgo anche le cuffie, bisogna agire su tre fronti, quindi il fronte istintivo sarà la parte fisica, ok? Per un uomo. Il fronte emotivo, la parte emotiva, sarà il collante, sarà quello che lega e il fronte dell'impegno è quello comportamentale e facendo questo, vedendo questo, abbiamo tutto risolto. Tutto risolto che vuol dire che abbiamo tutta l'idea, no, completa di quello che dobbiamo fare. Allora, per quanto riguarda l'attrazione fisica, no, per farlo innamorare, sarà importante generarla attraverso la libido, ovviamente senza esagerare. Come si fa a fare questo? Una cafonata, allora, una cafonata, come direbbe Cristiano De Sica, non gliela devi dare subito. Allora, vogliamo rendere la cosa più semplice possibile anche per gli infanti che ci guardano, che magari hanno 18 anni, 20 anni, che siete giovani. Ragazzi, voi a scuola fate a gara a chi la dà di più? No, cioè, non funziona in questo modo, non so se mi spiego. Non si fa, ok? Non si fa, non dovete darla subito. Dovete rallentare il rilascio, ovviamente, di quella il più possibile, se volete farlo regare fisicamente e aumentare la fantasia. Adesso, facendo questa cosa, lo vuoi far regare anche sul piano emotivo, e quindi come fai a farlo regare anche sul piano emotivo? Vai a scoprire quelle che sono le sue fantasie nei messaggi, fantasie che ovviamente devono essere fantasie erotiche. Perché? Perché così gli farai provare attrazione, ok? Gli farai pensare che c'è la possibilità di, no, arrivare a fare qualcosa, no? Di arrivare a essere, no? Arrivare sotto. Quindi, se dai troppo, potrebbe diventare meno interessante per quella persona, e allora non devi dare abbastanza. Quindi, questa è la prima fase. Tenerti il più possibile e stimolarlo, no? Facendo di pensare che ci si può arrivare. Poi, per quanto riguarda l'implicazione emotiva, invece, devi capire le emozioni di questa persona e usare il suo linguaggio emotivo per comunicare con lui. Quindi devi utilizzare il suo linguaggio emotivo. Ora, lo devi coinvolgere in modo che tu riesci a spingere su quello che lo fa preoccupare di più. Ora, come faccio io a farlo preoccupare e tensionare di più? Cioè, si deve tendere, no? A livello emotivo. Deve avere degli sbarzi emotivi in questo modo. Utilizza soltanto un processo di presenza e assenza. Continuum. Presenza, assenza, presenza, assenza, presenza, assenza. Prendi i giorni della settimana, steccali, fagli al 50%, dividili, fai un po' come ti pare. E poi, ovviamente, fai metà giorni i per presenza, metà giorni per assenza. Perché ti sto dicendo questo? Perché in questo modo riesci, ovviamente, a giostrarti e ad essere sia presente che assente e quindi imprevedibile. Perché una donna imprevedibile sarà una donna che stimola le sue tensioni, le tensioni emotive. Ed è necessario che ci sia questa stimolazione, perché è proprio attraverso questa stimolazione che tu genererai attrazione. Sarà attraverso l'uso di questa stimolazione, ovviamente al 50%, come abbiamo visto adesso, che puoi generare attrazione, che puoi fare innamorare qualcuno. Ora, per quanto riguarda la terza fase, quindi la parte dell'impegno, gli dovrai dimostrare che lui, che tu, scusami, sei disposta a voler stare con lui, ma che hai bisogno che lui sia presente nella tua vita con, per esempio, l'applicarsi di atteggiamenti di, ovviamente, impegno logistico. Quando ero giovane io non sapevo cosa voleva dire logistico, vuol dire di logistica, nel senso che lui ti prende, ti scarrozza, ti porta, ti devi fare accompagnare. E allora ti devi fare corteggiare. Esempio, ah sai, sto andando a fare shopping al centro commerciale, perché non passi con me e mi fai compagnia? E lo fai venire e lo fai lasciare a secco. Però intanto lui è venuto, è andato lì, è stato con te, è accompagnato a fare shopping, che è una cosa noiosa. Più gli uomini fanno cose a livello di impegno con te, più si impegnano con te, a livello comportamentale, più aumenta la chance che questi si innamorino, che questi rimangono poi legati, attaccati. Ok? Quindi, non glielo vai a chiedere in modo esplicito, accompagnami qua. No. Gli fai, ah sto andando là, è semi esplicito, semi implicito. Ok? E gli dici quello che stai andando a fare. E poi magari gli dici che magari si può unire a te. Quindi questa linea comportamentale la dovrai ripetere tutte le settimane. E allora ci sarà una settimana dove usi la libido e vai di messaggi erodici. E la porti tutta sul messaggio erodico. Una settimana dove sei per presente a livello di coccole, a livello di assenza, fai 50 e 50. E una settimana dove lo spingi più e più giorni ad avvicinarsi a te a livello comportamentale, a fare cose insieme a te, dove magari ti vedete più del solito. Due volte, tre volte a settimana invece che una volta ogni dieci giorni. E la quarta settimana, per esempio, le puoi fare tutte insieme. E poi ricominci da capo. Mixa questi suggerimenti che ti ho appena dato, come preferisci, nel modo migliore. Perché in questo modo vai ad amplificare l'impegno che lui mette nei tuoi confronti, posiziona nei tuoi confronti e si lega di più a te. Questo processo lo puoi utilizzare con tutti, lo puoi utilizzare anche all'interno di una coppia in teoria. Ovviamente all'interno di una coppia è un po' più lento, un po' più diluito. Ma all'inizio della frequentazione questo è il must che ti consente di sedurre al meglio un uomo. Ok? Quindi vai, opera, metti in pratica, divertiti. Mi raccomando, iscriviti al canale e guarda i video che poi YouTube ti suggerisce, che saranno quelli migliori in base al tuo caso. Ci sentiamo dopo.